Uno sversamento nel fiume Saline, al confine tra Città Sant'Angelo e Montesilvano, ha compromesso la qualità del mare. E' quanto emerso da un prelievo dell'Arta, l'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente, tramite cui si sono riscontrati valori di inquinanti sopra la norma. Si è bloccata una pompa alla gestione ACA che ha per un'ora sversato lungo il Saline e quindi ACA ci ha immediatamente avvertito, è intervenuta prontamente per bloccare la fuoriuscita, ma comunque una minima fuoriuscita c'è stata, ci ha consigliato di porre delle ordinanze per il divieto di balneazione e noi immediatamente le abbiamo emesse con rispetto della legge. Adesso attendiamo i risultati Arta per poter togliere questa ordinanza. I due comuni hanno quindi deciso di adottare un'ordinanza di divieto di balneazione. Per la precisione la legge già impedisce di tuffarsi a meno di 100 metri di distanza dalle foci dei fiumi. L'ordinanza angolana ha raddoppiato questo limite, impedendo la balneazione nei 200 metri a nord del Saline. L'ordinanza ha una durata prevista di 30 giorni, ma in base al prossimo rapporto dell'Arta, atteso nelle prossime ore, potrebbe già essere rimossa. È un'ordinanza temporanea, sempre valutando quelli che sono i dati che Arta ci darà. Nel momento in cui Arta ci dice che i dati sono sensibilmente migliorati e non ci sono grosse problematiche, rimuoveremo l'ordinanza.